Sì, non ho tempo da perdere! Sì, non ho tempo. Munizioni quasi esaurite. Facciamo un grande bug! Sì, non ho tempo. Nessuna ritirata! Nessuna ritirata! Facciamo vedere loro di che pasta siamo fatti! Attacco! Facciamo vedere loro di che pasta siamo fatti! Attacco! Preparati per una granata! Sì, sì, sì. Sì, sì.